Ha la possibilità Resta qualche dubbio sull'intervento di Anzalone Tocca sicuramente con la coscia, probabilmente però prima col braccio sinistro Un rigore in questa stagione per il Bari, lo aveva trasformato Pozzebon a Messina Adesso tocca Simone Simeri dal dischetto Simeri contro Cassalia La rincorsa del 9, la battuta, pallone in rete, 31 minuti al San Nicola Si sblocca il punteggio, Bari 1, Cittanovese 0, ha segnato Simone Simeri Fanno due per lui in campionato, Bari avanti di uno Difficoltà a trovare giocate pericolose su azione E allora il Bari riesce ad andare in vantaggio dal dischetto Rasoterra di Simeri che spiazza Cassalia e regala il vantaggio ai biancorossi Esulta la curva nord Conclusione, ma che...